Rafforzare la sorveglianza negli uffici dei segretariati degli ambiti sociali del comune di Salerno dopo lo stop per i beneficiari del reddito di cittadinanza. L'aggressione di questa mattina negli uffici del centro sociale di Salerno ai danni di un dipendente e un assistente sociale conferma la necessità di innalzare il livello di guardia da parte del comune di Salerno. Gli uffici sono diventati una sorta di valvola di sfogo del malcontento generale di chi oggi si ritrova senza sussidio proprio come nel caso di un utente già censito dai servizi sociali che lamentava ritardi nella gestione del reddito di cittadinanza. Questa mattina prima ha minacciato verbalmente l'assistente sociale e poi è passato alle mani aggredendolo brutalmente ad esprimere solidarietà al lavoratore aggredito che è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Curteri di Mercato San Severino e il segretario provinciale della funzione pubblica della CGL Antonio Capezzuto e il segretario provinciale della Will Funzione pubblica Gerardo Bracciante. L'aggressione ai danni del lavoratore delegato sindacale della funzione pubblica della CGL cui ha assistito suo malgrado anche il segretario organizzativo Daniello della Will Funzione pubblica che si è recato al segretariato sociale proprio per ascoltare i lavoratori richiede con urgenza un incontro immediato con la direzione strategica per trovare soluzioni condivise per potenziare la sicurezza di tutti gli operatori nei luoghi di lavoro, aumentare la tutela del bene pubblico e sostenere il tessuto economico sociale che si sta pian piano sgretolando. Siamo all'ennesima aggressione dopo quello accaduto a Cava qualche giorno fa. Stamattina un utente si è rivolto a questo ufficio come di solito già faceva, è un ex percettore di cittadinanza perché le informazioni praticamente ha poi deciso autonomamente di aggredire l'operatore del comune di Salerno. Ovviamente adesso l'operatore è in ospedale a Curteri al pronto soccorso per farsi riflettare, io l'ho sentito personalmente in uno stato di shock abbastanza evidente. C'erano stati precedenti contatti tra questa persona e l'assistente sociale, altri momenti magari durante il quale si era un po' trascesi? No, non c'erano stati altri momenti di tensione, però la situazione adesso di caos sociale determina il fatto che le persone non abbiano ben chiare le situazioni, ovviamente trovano come front office gli assistenti sociali e poi scatenano la propria rabbia verso questi operatori. Una situazione che crea allarme da parte del sindacato dopo questo evento di oggi, come si correrà ai ripari? Crea allarme assolutamente perché i lavoratori non possono subire aggressioni sui luoghi di lavoro, questo succede anche negli ospedali e noi ovviamente la prima cosa che chiederemo all'amministrazione è un incontro ma soprattutto un presidio da parte delle forze dell'ordine di questi luoghi perché ci sono centinaia di accessi al giorno, le situazioni sono molto particolari e le persone sono esasperate, però l'esasperazione non fa comprendere ovviamente accettare questo tipo di comportamento. Credo che sia necessario in questo momento fare anche il punto della situazione, stiamo vivendo un momento di crisi sociale notevole, con la soppressione del reddito di cittadinanza avremo problemi, da qui a qualche mese se non si trova una strada alternativa anche l'ente comune deve attivare qualche procedura assolutamente, soprattutto a tutela dei lavoratori ma anche del territorio perché diciamo la verità Salerno ha difficoltà, tutta la provincia di Salerno quindi voglio dire abbiamo bisogno di fare anche una riflessione su quello che è accaduto rispetto al reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione non so se è una soluzione però certamente non possiamo lasciare i cittadini così provvisti da ogni tutela di garanzia.